Siamo qui al Forum PA, oggi per presentare, credo per la prima volta in modo organico, il sistema dei parchi scientifici e tecnologici italiani. È un sistema complesso, articolato, diffuso su tutto il territorio nazionale, che ha un obiettivo fondamentale, quello di aiutare la crescita basata sull'innovazione, sullo sfruttamento produttivo della conoscenza. Per far questo crediamo che ci vogliono più attori, uno dei fondamentali attori è la pubblica amministrazione, l'altro è il mondo della ricerca e l'altro ancora ovviamente sono le imprese produttive. Ecco, i parchi possono rappresentare un perno di questo sistema nei vari territori e facendo sistema tra di loro e quindi collaborando tra di loro possono essere un fattore di accelerazione della competitività del sistema paese. Questo è l'obiettivo che noi abbiamo, questo è l'auspicio che noi ci poniamo anche con l'apertura di questo confronto che stamattina si avvia. I parchi scientifici e tecnologici italiani sono andati incontro in questi anni a una trasformazione profonda, da strutture prevalentemente immobiliari e di accoglienza di imprese, a strutture che sono in grado di offrire servizi a valore aggiunto molto sofisticati, sia sul versante delle nuove imprese innovative da incubare, che sul versante dei progetti di ricerca e innovazione tra imprese e centri di ricerca. I dati che coprono il periodo 2004-2008 mostrano dei risultati molto interessanti, una crescita del numero di imprese di oltre il 60%, una crescita degli occupati, una presenza di occupati in ricerca e sviluppo e sono oltre 4.500 persone nel sistema dei 30 parchi italiani che, se messe insieme, farebbero dei parchi la più grande impresa italiana in termini di ricerca e sviluppo. Una struttura finanziaria che usa risorse pubbliche prevalentemente per gli investimenti e invece una quota più elevata di risorse private per la gestione, che quindi ha trovato anche un modello operativo sostenibile. Quindi sono dati, devo dire, molto incoraggianti rispetto a questa componente essenziale del sistema di innovazione italiano. Nell'ambito delle attività del Parco Scientifico e Tecnologico di Navacchio abbiamo dal 2003 avviato un servizio di incubazione, incubazione che consiste nel dare supporto a nuovi imprenditori dal momento del concepimento dell'idea imprenditoriale fino ai primi 2-3 anni di vita dell'impresa. In questi anni che cosa abbiamo raggiunto? Quali risultati? Abbiamo avviato una trentina di aziende. I risultati sono importanti perché queste aziende crescono, sono sul mercato e soprattutto queste imprese rappresentano una fonte di rinnovamento dell'offerta tecnologica del Parco Tecnologico di Navacchio. Questo è un elemento molto importante. Queste aziende crescono, si radicano sul territorio, portano nuova occupazione, portano incremento di fatturato. Quindi diciamo dei risultati importanti che poi per un territorio sono quello che è necessario. Grazie.